Ciao a tutti amici di Marcosbox e ben ritrovati in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source questo video è dedicato ad un rant che voglio fare quest'oggi nei confronti della Microsoft chi mi segue sa che ho a che fare anche con Windows 10, ne ho fatti specie adesso perché ho avuto la cattiva idea di aggiornare entrambe i pc dotati con Windows con Windows 10 da Windows 7 e quindi devo usarlo per alcuni motivi personali quindi sono costretto anche ad assorbirmi la gestione degli aggiornamenti della parte di Microsoft non so se avete notato anche voi ma ultimamente diciamo che a partire da Windows 8 partì da questa solfa gli aggiornamenti di Windows sono problematici sono problematici perché su un pc si stagano, sull'altro danno problemi sull'altro danno problemi un'altra cosa ancora quindi sono un po' umorali, un po' fatti messi così come alla rinfusa si ha quindi l'impressione che da parte di Microsoft manchi la capacità di testare gli aggiornamenti prima di rilasciarli al grande pubblico giusto quest'oggi, negli ultimi due giorni, ne sono incappati due il primo su una macchina con Windows 10 a 32 bit c'è un aggiornamento, non vi sto a dire il nome del codice comunque è un aggiornamento che serve il computer pack che hanno rilasciato che sulla macchina a 64 bit si è installato questo aggiornamento sulla versione a 32 bit sull'altra macchina non si è installato non c'è modo di installare, arriva al 100% poi torna indietro dice impossibile completare l'installazione degli aggiornamenti e così con un loop continuo perché come ben sapete c'è il problema che gli aggiornamenti adesso te li devi sorpire che succede? succede quindi che si ha ovviamente ci tengo a precisare questo problema non lo so soltanto io su internet sono solti i soliti post con contatti presso le pagine di supporto della Microsoft dove si ritrovano a commentare degli utenti avanzati Microsoft e responsabili del sito e quant'altro che propongono sempre le solite cretinate tipo hai provato a fare un'installazione pulita oppure hai provato a disattivare l'antivirus o cazzate del genere le buttano lì buttano come se fossimo degli utenti che buttano soluzioni così random ad esempio in caso dell'installazione alcuni dicono formatta alcuni dicono fare un'installazione pulita cioè io devo fare un'installazione pulita per mettere un aggiornamento ma ci rendiamo conto ma che cacchio vi siete bevuti vi volete testare sti cacchio di aggiornamenti o no o vi dovete fare la rinfusa stesso discorso è capitato quest'oggi mi è capitato perché ho dovuto ripristinare un computer dotato a Windows 8.1 non mio di una persona che ieri si era bloccato dopo gli aggiornamenti questa persona aveva fatto i regolari aggiornamenti di Windows perché sono consiglianti so da fare fatto gli aggiornamenti e si è ritrovato con il computer bloccato che non poteva partire Windows 8.1 che faceva sempre diagnosi del sistema e rimaneva in gruppo continuo fortunatamente sono riuscito a ripristinare non con gli utility di Windows 8.1 ma ripristinare un punto di ripristino precedente questa volta ripristinando a un punto di ripristino prima degli aggiornamenti prima dell'installazione degli aggiornamenti sono riuscito a farlo ripartire ho aggiornato e questa volta non ha fatto scherzi quindi rendiamoci conto se è normale che un aggiornamento prima va poi non va nel caso mio di quello che sto affrontando con Windows 10 prima funziona su una configurazione funziona su un'altra configurazione non funziona non vuole saperne di andare ma posso fare tantissimi esempi ho persone che conosco che hanno problemi di varia natura con gli aggiornamenti Windows che si sminchi ai profili utenti e cose del genere non lo so io sono schifato da tutto questo sono schifato dal fatto che Microsoft e chi per lei continua a trattare gli utenti come dei beta test noi non siamo beta test siamo degli utenti abbiamo la necessità di avere un prodotto finito un prodotto funzionante e non possiamo perdere tempo con il sistema che non funziona non possiamo perdere tempo con gli aggiornamenti perché? perché uno magari col computer ci deve lavorare e quindi ha bisogno di avere la possibilità di poterci lavorare senza sbattimenti di sorta mi avrebbe da dire poi dicono a Linux con Linux non ho avuto questi problemi non ho troppo con tutti questi aggiornamenti nemmeno quando ho provato quando ho avuto la mia pausa con Arc Linux cioè rendiamoci conto è proprio assurda questa cosa fatemi sapere che cosa ne pensate voi lunga vita e prosperità a tutti quanti al prossimo video